Anzi, sono Den e questo è il mio primo video in cui c'è la mia voce Ehm... in questo video ho aperto Outrack Simulator Ehm... perché... questo qui è, ripeto, il mio primo video su... su questo canale Ehm... e vorrei fare dei video di Outrack Simulator O di Minecraft, dipende Se... ha abbastanza persone piacerà, io farò questi video Questo qui era un breve video per annunciare l'apertura del mio canale E... da Den è tutto Ciao a tutti